buongiorno ragazzi benvenuti alla nuova lezione dedicata all'arte greca in particolar modo al tardo classicismo questa parte la trovate sul vostro libro di testo pagina 183 184 l'artista che vedremo oggi si chiama scopas di paro il nome fa sempre come dire sorridere ed è nativo di una delle isole cicladi quindi paro sta ad indicare in realtà un'isola appartenente appunto alle cicladi quello che fa scopas è sostanzialmente portare alle estreme conseguenze una ricerca che abbiamo già individuato in prassitele tant'è che viene definito anche il maestro del pato se lo trovate scritto qua che cos'è il patos l'ho trovata anche nel glossario sempre di pagina 183 del libro di testo una parola greca che possiamo tradurre in turbamento passione intensità emotiva e partecipazione affettiva il che si traduce ad esempio in un'opera nel voler suscitare ad esempio un'intensa emozione una grande commozione facendo leva sulla drammaticità e quindi lo scultore in questo caso scopas che diventa davvero il maestro per eccellenza del patos cerca di rappresentare l'intensità dei sentimenti e delle passioni e lo fa benissimo con la menade danzante che trovate qui sul vostro libro di testo pagina 184 in realtà il vostro libro parte con la la presentazione di un'altra scultura che è il potos letteralmente significa divinità dall'anguore amoroso questa leggetevela nel senso che poi le caratteristiche le ritroviamo soprattutto in questa che la più famosa diciamo di scopas diciamo che con scopas c'è la volontà di ricercare un particolare stato d'animo espresso attraverso ad esempio la postura o attraverso la mimica facciale il viso ma la stessa postura diventano degli elementi essenziali per poter rappresentare e comunicare questo questo patos quindi ciò che caratterizza le sculture di questo artista è proprio la ricerca di un'intensità dello sguardo di solito gli occhi sono sono infossati comunicano anche se come potete vedere in questo caso la scultura non è proprio in ottime condizioni conservative ma sicuramente questa che vedete è la scultura di scopas più più famosa più importante si chiama menade danzante risale al 335 330 avanti cristo circa è una copia romana in marmo non è particolarmente grande vedete misura 45 centimetri ed è conservata a dresda allora qui vi ho inserito due visuali una visione frontale una visione laterale perché in questo modo è possibile comprendere meglio che cosa sta facendo questa menade prima di capire che cosa sta facendo dobbiamo però chiarire che cosa significa il termine menade allora anche qui il glossario sul vostro libro di testo ve lo specifica il termine menade significa come dire un essere che si abbandona delle danze selvagge durante i riti celebrati in onore del dio dioniso dove venivano anche ad esempio mangiati dilagnati dei piccoli animali selvatici divorati dal in questo caso dal dalla menade e sacrificati in onore del dio quindi sostanzialmente la menade che cos'è è una danzatrice che si abbandona delle danze selvagge sfrenate e che talvolta proprio abbandonandosi a queste danze sfrenate sbranava e divorava anche dei piccoli animali che venivano quindi offerti al dio dioniso quello che vediamo in questa scultura è un corpo che è in preda a questi furori dionisiaci e ad una danza sfrenatissima questa danza così sfrenata fa sì che la donna sia rappresentata in una postura assolutamente innovativa se pensiamo a tutte le sculture viste fino a questo momento ed è una scultura resa e scossa da un movimento che conferisce proprio alla scultura una grandissima vitalità energia guardate la testa la testa è rovesciata all'indietro lo sguardo è completamente perso verso l'alto le labbra si fanno labbra carnose sono dischiuse e soprattutto guardate la veste la veste che è tenuta in vita da una cintura ed è questa a un certo punto sembra quasi non contenere più l'abito di questa menade e quindi proprio perché la donna è in preda queste danze così selvagge il vestito si apre si apre e lascia praticamente intravedere una parte una porzione del corpo nudo della donna ovviamente questo particolare ha una come dire come effetto un effetto estremamente sensuale anche erotico ecco quindi questa figura è rappresentata in uno stato di ebrezza come si usava a fare proprio nei riti realizzati in onore del dio dioniso e proprio per via di questa ebrezza il busto ha un come dire si torce all'indietro è rivolto all'indietro così come la testa e all'indietro e la testa appunto per via del movimento fa sì che i capelli siano scomposti movimentati c'è un'interpretazione del motivo per cui vi ho inserito questa immagine che vi consente di capire laddove non ci sono più le parti cioè le parti mancanti della scultura e vedete sono questi elementi tratteggiati ci consente di immaginare come doveva presentarsi in origine la scultura e dobbiamo immaginarci che una mano della scultura tenesse un capretto quindi uno di quei piccoli animali selvatici che dovevano essere sacrificati in onore del dio e dall'altra probabilmente stava impugnando il coltello cioè quello stesso coltello che avrebbe in qualche modo ucciso l'animale quindi l'animale veniva proprio mangiato durante questo banchetto durante queste danze così sfrenate quindi di scopas sostanzialmente vedetevi bene la menade danzante ok e il fatto che l'autore venga ricordato proprio perché introduce il pathos nelle sculture questo pathos è possibile vederlo nella menade danzante direi che qui forse l'esempio più più efficace oppure nell'altra scultura che vi presenta il vostro libro di testo a pagina 183 però quello che mi interessa è che vi ricordiate la menade passiamo in realtà a un altro artista questo non è presente sul vostro libro di testo però ve l'ho inserito perché c'è una scultura molto importante che ritroverete poi quando in quarta farete il neoclassicismo e quindi mi interessa che possiate già prendere in qualche modo confidenza con questo artista allora leocares è uno scultore atteniese ed è contemporaneo di prassitele di scopas e di lisippo che faremo poi nella volta successiva viene citato come uno da plinio quindi fonte la nostra fonte storica come uno dei quattro artisti implicati nella decorazione del mausoleo di elicarnasso il mausoleo di elicarnasso era una delle sette meraviglie del mondo antico e alle ocares era stato affidato una porzione di questo monumento per quanto riguarda la decorazione ma soprattutto leocares viene ricordato per l'apollo del belvedere ed è questa scultura trucchetto quando trovate sculture con la dicitura belvedere vi aiuta nella nell'individuare quella che è la corretta collocazione belvedere fa riferimento al cortile inserito all'interno dei degli edifici del vaticano della città del vaticano quindi la porzione in realtà oggi dedicata ai musei vaticani questa scultura ad esempio era stata acquistata e voluta da papa giulio secondo alla fine del del quattrocento aveva deciso di farla trasportare nel giardino del belvedere perché queste sculture dovevano decorare questa porzione di giardino inserita all'interno degli edifici in vaticano e questa scultura da allora prende proprio il nome del giardino ma ce ne sono altre quindi la dicitura del belvedere fa riferimento proprio a alla collocazione questa scultura venne considerata come la massima espressione dell'arte greca cioè del dell'apice raggiunto dagli artisti greci tant'è che alla sua fama contribuì anche il giudizio di uno storico dell'arte tedesco di nome vinkelmann anche qui iniziate a ricordarvi perché poi vinkelmann come vi dicevo lo ritroverete poi a studiare in quarta vinkelmann era uno storico dell'arte tedesco che aveva studiato l'arte greca e aveva ritenuto che questa scultura fosse il simbolo della bellezza ideale immortalata dall'arte greca e utilizzata come simbolo e come esempio per gli scultori invece neoclassici cioè quegli scultori che nella metà del settecento inizieranno a guardare all'arte greca come ad un'arte a cui ispirarsi di riferimento massima l'opera in realtà lo vedete è una coppia romana quindi è la replica di epoca romana di un originale in bronzo misura due metri e ventiquattro e in marmo ed è oggi conservata all'interno dei musei vaticani come si presenta il nostro dio allora il dio è il dio apollo e è rappresentato in questo modo allora qui leocares cerca di rendere come dire la figura estremamente leggera allora vi ricordate policleto e il chiasmo c'è il rapporto chiastico che aveva introdotto policleto vale a dire la contrapposizione tra gli arti qui invece leocares si concentra sulla leggerezza come possibile rintracciare questa leggerezza osservate i piedi allora la gamba destra è appena tesa e il piede poggia completamente a terra quello sinistro invece è leggermente piegato lo vedete qui dall'articolazione è tenuto un po indietro rispetto all'altra gamba e il piede fateci caso non è appoggiato completamente a terra ma è appoggiato semplicemente con la punta questo vuol dire che cosa che l'equilibrio durante dobbiamo immaginarci che il dio sta sta compiendo un passo è estremamente come dire alleggerito in più dobbiamo anche immaginarci che il nostro dio Apollo è colto nel momento in cui sta scagliando una freccia e quindi è concentrato diciamo in questo tipo di azione e questo però fa sì che il dio sia sembri davvero senza peso non sembri quasi neanche camminare sulla terra ma sembra addirittura soltanto sfiorarla in più come unico elemento vediamo qui questo elemento diagonale sul petto di Apollo ed è la la faretra questa sorta di sacca che dobbiamo immaginarci sulle spalle del dio e che conteneva le le frecce e qui immaginatevi invece l'arco ok questa ricordatevela anche come esempio del della scultura tardo classica mi fermerei qui l'autore che faremo la prossima volta invece l'isippo consiglio vivissimo guardatevi volta per volta questo materiale che vi vado a caricare sempre nei giorni di lezione magari sui tre giorni di lezione che abbiamo settimana non ve li carico su tutti e tre perché poi magari diventa tanto magari cerco di accorpare un po' gli argomenti e magari ve lo carico o una volta a settimana o due volte a settimana però tra un po' vi darò degli esercizi che poi necessiteranno di una valutazione quindi così come vi ho sempre detto in classe dall'inizio dell'anno non accumulatevi questo materiale guardatelo volta per volta un po' per volta potete giostrarvelo quando vi è più comodo la didattica a distanza questo ci consente però dovete avere una buona organizzazione del materiale altrimenti ci si perde con estrema facilità questo soprattutto è rivolto a chi magari nel primo quadrimestre poteva già avere qualche difficoltà d'accordo poi ci aggiorniamo dovremo poi stabilire di qui in avanti come procedere ho visto che alcuni di voi mi hanno contattato su Skype invito gli altri a farlo in modo tale che così fissiamo una prima videochiamata di classe anche solo per chiacchierare e fare il punto della situazione d'accordo? alla prossima buona giornata ciao